Cari amici di AIA Studios, con enorme piacere abbiamo l'onore di presentarvi una partnership incredibile. Lei è Alessandra De Vitini della AD Service. Cosa ci porti Alessandra? Qual è il tuo apporto alla AIA Studios? Io ho appunto questa agenzia di personale, di hostess, promoter, modelle che è sul territorio da tantissimi anni e sono felicissima, spero di collaborare in modo stretto e proficuo per tutti e vi ringrazio appunto di avermi fatto entrare in questo grandissimo progetto. Allora Alessandra ci puoi dire esattamente perché abbiamo parlato di moda, perciò modelle, ma ricordiamo che l'agenzia offre anche dei servizi più vari, quali hostess? Sì, promoter, personale della sicurezza, guardarobbiere, ma anche animatori, personale che può essere dello spettacolo ma per fare dei piccoli interventi in convention, in eventi in generale e un po' tutte le tipologie, dalla hostess d'accoglienza in fiera alla promoter che vi fa degustare, provare qualcosa nel punto vendita con magari regalando un gadget o qualcosa del genere, insomma. Per cui appunto varie tipologie di personale forniamo e faremo questa cosa insieme e sono molto contenta. Assolutamente, siamo molto entusiasti anche noi perché noi mettiamo a disposizione il nostro studio dove possiamo fare shooting, casting, video, registrare programmi televisivi oppure programmi videoclip musicali, insomma tantissime cose. E ovviamente, cara Alessandra, le caratteristiche che devono avere queste persone che si presentano è l'età. Dunque, no, va bene, non c'è un'età precisa, nel senso è ovvio che hostess, modelle, promoter o steward magari sono più in una fascia d'età dai 20 ai 30 ai 35, però, o studenti, insomma. Però abbiamo anche richiesta di signore, di personale anche di età più avanzata, cioè assolutamente non abbiamo una linea precisa. E poi secondo appunto le caratteristiche che le richieste, anche questo può variare, insomma. È ovvio che se è la hostess d'accoglienza o la modella per una fiera particolare, è ovvio che deve essere magari una ragazza o una studentessa, però ci sono promoter o signore anche un po' più agé, diciamo, che sono veramente molto, molto brave, molto in gamba, per cui vanno benissimo anche loro e anche, sì, sì, anche i ragazzi, anche molti ragazzi, perché si parla sempre di donne, ma assolutamente steward, persone della sicurezza, ma anche ormai in accoglienza o anche dei ragazzi e dei signori vanno benissimo. Perfetto, e allora cosa dirvi? Innanzitutto nel sottopancia che vedete qui sotto il video passeranno tutti gli estremi per contattarci, le mail, i numeri di telefono che noi replicheremo anche sotto a questo video. Perciò continuate a seguire la Studios, da oggi partnership di AD Service e appuntamento alla prossima. A presto, grazie. Ciao. Ciao. Autore dei sovrapposti